Una gara che tutti sognano di fare, io ho avuto questa opportunità e spero di dare il meglio per ripagare la fiducia che mi hanno dato. Arrivi da un oro importante, quello dei campionati italiani della tua categoria, 76 kg. Come arrivi al mondiale? In quella gara ho trovato persone che cercavano di darmi più o meno la carica giusta per fare un buon risultato a quella gara che a me serviva tanto, perché comunque come hai detto tu era la mia categoria, quindi assolutamente mi serviva un risultato lì per andare avanti con molte prospettive. Maestro, lei nella sua carriera ha avuto tanti ragazzi, tanti piccoli fenomeni, stavolta ne manderete uno a gareggiare per i mondiali, che cosa si prova? La nostra è una società storica, però ogni volta è un'occasione nuova e ogni volta come hai detto tu sono dei cuccioli che abbiamo cresciuto da piccolini, lui aveva 6-7 anni quando è venuto in palestra e vederlo adesso gigante, ora non lo vedete a fianco a me ma è il doppio di me, Vederlo adesso cresciuto in salute, un uomo forte e anche devo dire con delle qualità morali non indifferenti e vederlo gareggiare a questi livelli è veramente una soddisfazione.